benvenuti a lingotri la serie online parliamo inglese nell'episodio di oggi impareremo i pronomi personali soggetto inglesi iniziamo i pronomi personali soggetto ci aiutano capire chi sta compiendo l'azione essi sono I, io, you, tu, he, lui, she, lei, we, noi, you, voi, they, loro I, you, he, she, we, you, they I, I love pizza Io amo la pizza In questa frase, I, è il pronome personale soggetto e indica la persona che ama la pizza You, you study a lot Tu studi molto In questa frase, I, è il pronome personale soggetto e indica la persona che studia molto He, he is friendly Lui è simpatico She, she is beautiful Lei è bella We, we're going home Noi andiamo a casa You, you speak Italian Voi parlate italiano They, they are good Loro sono bravi I, you, he, she, we, you, they Sei riuscito a memorizzare tutti i pronomi? Se sì, prova a tradurre i seguenti pronomi in inglese Chi, chi è la sua Noi andiamo a casa Sì 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 ben fatto ora, completa le frasi utilizzando questi pronomi They are good I am Italian He is bad We are friends She is beautiful You study Italian You speak well Ottimo Hai quasi imparato tutti i pronomi personali soggetto inglesi Hai notato che i pronomi esso ed essa non sono nella lista? Dato che i pronomi soggetto inglesi per esso, essa, vengono utilizzati in modo diverso rispetto a quello italiano al momento, per evitare confusione questo argomento sarà trattato in un video separato e attraverso le nostre lezioni online Adesso, diamo un'occhiata a tutte le parole che hai imparato nell'episodio di oggi Congratulazioni! Spero di rivederti nel nostro prossimo episodio Non dimenticare di iscriverti e mettere mi piace Grazie A presto Ciao